Per la penultima giornata del campionato di primavera scendono in campo nel girone B il Perugia ed il Brescia. Perugia che si rende subito pericoloso in avvio con Mirval, la risposta di Mandelli, nulla di fatto, risponde il Brescia qualche istante più tardi qui con il tiro di Semprini, palla sul fondo. Al ventitresimo del primo tempo arriva il gol del vantaggio del Brescia, il cross dalla corsia di destra da parte di Filippi, accentuare pronto milanesi a deviare in rete per il gol del momentaneo 1-0 della formazione ospite. Prova a rispondere il Perugia con Dinolfo, corsia di sinistra, il cross al centro, non ci arriva di un soffio Mirval. Poi ancora Dinolfo, l'ex giudatore della Roma, scambia con Mirval, pallone restituito al numero 9 del Perugia che venne però qui anticipato da Mandelli in uscita. Perugia che prova a ristabilire la parità nel finale del primo tempo, non ci riesce però la formazione di casa, è bravo qui Mandelli a negare il gol al numero 10 Iacolevs. Poi ancora il Perugia nel finale del primo tempo, qui la conclusione da parte di Vicaroni, palla sul fondo. Con delle immagini andiamo alla ripresa, sempre il Perugia a cercare la via delle gol, sempre con Vicaroni qui, palla alta al secondo. Il Brescia reclama per un possibile calcio di rigore su strada al quarto, nulla di fatto proprio perché il direttore di gara non ravvisa nessun fallo. E dal decimo del secondo tempo arriva il gol del pareggio da parte del Perugia con Mirval che raccoglie l'assist di Dinolfo e sigla così l'1-1. Il Brescia si fa vedere al dodicesimo con strada, nessun problema per Santo Padre. Poi ancora il Perugia, corsia di sinistra con Dinolfo, qui prova il tiro di sinistro, palla sul fondo. Perugia vicino al gol del vantaggio e al ventiduesimo del secondo tempo arriva il calcio di rigore, atterramento di Mandelli ai danni di Mirval. Per il direttore di gara è calcio di rigore e ammunizione dal dischetto, si presenta il neo entrato Barfai, palla in rete, gol del sorpasso da parte del Perugia. Quindi si trova ora a condurre per 2-1. Il Brescia prova a reagire qui con strada che da due passi mette fuori incredibilmente, palla sul fondo. Poi ancora il Brescia in possesso di palla, pallone in avanti ancora per strada. Qui il tentativo di pallonetto su Santo Padre con la palla alta sopra la traversa. Il Brescia attacca, ma il Perugia trova il gol del 3-1 con il servizio da parte di Nolfo. Per Salvucci che scarta il portiere e mette in rete con il destro per il gol del 3-1. Ottimo l'impatto del neo entrato. Giocatore del Perugia, il Brescia, però non ci sta prova nel finale. Ancora una volta con strada e qui realizza il gol del 3-2. Sembra tutto tornato in discussione, ma ci pensa uno minuto più tardi di Nolfo. Grande finta di corpo del numero 7 del Perugia. Poi il tiro da parte di destro e palla in rete per il gol del 4-2. Chiude virtualmente il match. Il Brescia prova nel finale ancora una volta a rendere meno amaro il passivo. Qui ci prova con il numero 11. Brambilla palla sul fondo poi al 47esimo del secondo tempo. Con il Brescia sbilanciato in avanti arriva il gol. Il quinto del Perugia è il secondo personale da parte di Mirval per il 5-2 risultato finale con cui si conclude l'incontro.